Ciao a tutti, benvenuti, è un particolare ciao a Gianluca Rocca che sul gruppo Facebook Command Post Italia ha posto la domanda di come poter automatizzare alcuni processi all'interno di DaVinci questo processo comunque è valido per tutti i software per quanto riguarda Command Post chiaramente per chi ha Touch Portal, una Stream Deck o una Lop Deck tutto questo non serve perché quello che andrò a far vedere in Command Post è un po' una cosa da programmatori ma non è difficile, in realtà poi basterà fare copy and call andrò a spiegare il codice scripting che funziona in Command Post e si diventa subito programmatori c'è da fare una premessa, dunque la differenza tra Premiere, Final Cut e DaVinci è che in Final Cut c'è proprio un comando per fare uno slow motion in timeline c'è proprio automatic speed mentre in Premiere e DaVinci non c'è bisogna fare appunto R, andare a cliccare 50 su speed fare così ed è sì, è un po' manuale tutto questo si può fare comunque come già detto con le varie console di controllo Stream Deck, Lop Deck e Touch Portal attraverso un iPad ok, adesso la difficoltà non è stare a costruire questa macro, questa azione questa sequenza di comandi sfruttando appunto le scorciatoie da tastiera queste qui il problema sta nel fatto di andare a selezionare il campo questo qua dentro DaVinci anche in Premiere è lo stesso problema forse in Premiere un po' meno perché comunque una volta selezionato questo campo rimane sempre in DaVinci ogni tanto scompare perché è importante appunto andare a scrivere 50 in modo automatico qui dentro però l'amico Valerio D'Andrassi mi ha suggerito che appunto lo si fa una volta su una clip e lo si trova sempre selezionato e questo fin qui funziona ho notato però di fare gli esperimenti che di tanto in tanto si deseleziona ecco qua, si è deselezionato e questo rimane l'unico inghippo però tutto sommato la cosa funziona si può fare anche velocemente con un tasto Tab e selezionare il campo comunque ho detto ok, andiamo a vedere come costruire l'azione dentro Command Post in modo abbastanza semplice ho ridotto all'osso il codice scripting lua per Command Post comunque rimane un ottimo esercizio e ci aiuta molto a imparare anche Command Post tutto quello che vado a creare dentro Scripting dopo me lo trovo dentro Search Console eccolo qua, questo è il comando appena creato e andiamo a vedere un po' come è fatto lo script è molto facile, alla fine basta fare anche copia e incolla e appunto gli si dà un nome un nome appropriato e la prima cosa da fare è commentare con meno meno i commenti perciò basta aggiungere due trattini altrimenti il codice viene interpretato quando lo si esegue meno meno e scrivo quello che fa lo script è importante perché ci si potrebbe dimenticare infatti tutti i comandi sono commentati perciò cp sta per Command Post Blackmagic, Resolve, Launch è facilissimo apre DaVinci, perciò è molto facile poi la riga successiva è un semplice comando chiamato Keystroke il linguaggio di programmazione è molto conosciuto HS sta per Arm, Hammer e Spoon è un linguaggio di programmazione che si chiama martello e cucchiaio non so perché anzi molto usato questo linguaggio di programmazione interno del funzionamento proprio del sistema operativo è molto integrato ed è anche molto potente qui ne vediamo una versione veramente semplificata perciò abbiamo detto Arm, Hammer, Spoon, HS, Event, Tap, Keystroke tra parentesi, parentesi graffe, Command si può scrivere anche Command per intero e 4 4 è il tasto numerico che va a richiamare la timeline di DaVinci infatti se vedete qui c'è un righino rosso e qui adesso è rosa è importante così il nostro codice andrà a lavorare in timeline perché potrebbe lavorare da qualche parte perché DaVinci è molto complesso magari le stesse scorciatoie valgono sia per il timeline viewer che per la timeline infatti portano quasi lo stesso nome ok, continuiamo la prima riga appunto seleziona la timeline in modo che diventi lavorabile la seconda riga si ripete perciò basta fare il copio e incolla e fa Shift, Command, A che va a deselezionare tutto sì, perché un'altra differenza sostanziale è che DaVinci non ha né un comando seleziona clip in modo univoco né deseleziona clip anzi cioè seleziona clip c'è ma in realtà te la seleziona o above o below in corrispondenza del playhead della testina ma se io mi trovo qui e vado a ripremere di nuovo il tasto non funziona ecco qua questa è un'altra differenza strana perciò per far sì che il nostro codice funzioni vado a dargli il comando appunto deseleziona tutto ok, non c'è neanche deselezione clip cioè all è qui appunto deselezione all deselezione clip perciò è Shift, Command, A prima di andare a fare below appunto up la riga successiva appunto è Command, Up le frecce le freccettine si scrivono così up and down left and right poi magari lo aggiungo nella descrizione qui qui appunto selection clip above qui ho sbagliato ok seleziona clip il tasto successivo che viene premuto che viene seguito è il tasto R perciò appunto cosa ho fatto? seleziona timeline seleziona clip tasto R se il nostro campo come dicevo prima è selezionato la riga successiva qui faccio un salto poi spiegherò questo commento e qui ho aggiunto anche un un wait proprio per far sì che si vede che cosa sta facendo altrimenti dura un lampo l'intera esecuzione ho messo 0,5 secondi questo è Command post just wait perciò gli ho scritto un 0,5 e aspetterà 0,5 secondi nel commento c'è scritto uno vabbè comunque mezzo secondo il keystroke successivo appunto è il 50 che andrà a scrivere appunto 50 qui dentro ok e poi gli ho messo altri 5 millisecondi 50 millisecondi di attesa prima di premere return che è il tasto invio e qui ho lasciato le parentesi graffe proprio per far capire che si può questa stringa può essere usata o così con le parentesi graffe o così senza ok funziona lo stesso io l'ho lasciato perché magari qui dentro ci possiamo aggiungere un altro comando ma comunque basterà far fede a questo e a questi qui se fate tutto questo non bisogna essere programmatori è molto semplice mettere il codice a disposizione sul gruppo e ci siamo andiamo a vedere appunto qui in command post script si può testare il codice appena creato appunto perché c'è execute code e lo vediamo lavorare non ha fatto niente perché appunto quella cosa che diceva prima d'andrassi sta cosa fa così adesso se lo vado a ripremere magari ti funziona rifacciamolo scrive 50 e ha fatto la moviola e tutto qui è bellissimo mettiamo il caso che mi voglio spostare appunto vado a ripetere il comando dovrebbe funzionare schiaccio execute code me lo moviola io ho messo dei wait proprio per rallentare la scena altrimenti durerà un istante questa cosa poi comunque dipende anche dalle prestazioni del computer vado a fare anche qui scrive la 50 e il gioco è fatto tutto molto bello chiaramente come ho già detto in presidenza in search console basta scrivere il comando appena creato e lo si può lanciare tramite appunto il search control come ho spiegato in un video precedente che è command alt control space per aprire il search console se si ha una superficie di controllo una lope stream deck touch portal gli si potrà assegnare appunto un tasto per richiamare il search console se non vogliamo assegnare una scorciatoia allo script appena creato appunto vi faccio vedere qui vado in keyboard per assegnare una scorciatoia ma comunque è molto semplice si scrive come l'avevo chiamato dvr a volte non lo trova subito bisogna un po' insistere anche perché qui sta lavorando dentro final cut che in questo momento è aperto bisogna provare i vari filtri come l'ho scritto un attimo slow motion ok proviamo ancora qui dentro a volte semplicemente basta chiudere e riavviare command post per far sì che appunto il nostro comando viene viene rilevato dvr slow perché con una mano sto scrivendo con l'altra tengo il microfono allora dvr dai ci siamo è un po' di lag perché sono mille programmi aperti slow 50 eccolo qua ok perciò lo si può assegnare alla tastiera alla tastiera gli diamo una scorciatoia che non vada in conflitto con altre ma se abbiamo la lopdeck live una di queste si va in lopdeck plug-in come ho fatto vedere nel video precedente che magari metterò nei commenti ci sono i tasti favoriti che non hanno necessità non necessitano di assegnare una scorciatoia perciò basterà rifare qui la stessa cosa dvr ed eccolo qua si assegna il comando lo script creato si lo so ho cliccato un altro script è questo motion e come riferimento è il numero 8 perciò si va dentro lopdeck lo faccio rivedere anche qui senza stare a ricaricare il video molto lento lopdeck software veramente lento su tutti i computer dicono tutti la stessa cosa si va dentro command post la plugin da scaricare favorite che chiedo a mia moglie come si pronuncia in inglese favorites ok si seleziona il tasto lei ha lavorato in inglese io no chiaramente io ho la laurea della strada e si aspetta l'eternità di ecco qua ci compare tutto il tasto andiamo a 8 lo trasciniamo e il gioco è fatto abbiamo assegnato alla lopdeck il comando slow motion scritto in lua con command post che andrà a lavorare in timeline complesso così però alla fine una volta capito è molto semplice qui lo si potrà anche editare l'iconcina un disegno io li ho creati per final cut ma vanno bene anche per da vinci ce l'ho da qualche parte slow ecco no questo è slog beh comunque qui dentro c'è qualcosa torniamo un attimino qui dentro scripting di command post noi possiamo fare copia nuovo funzione fun incollare il codice e cambiare le scorciatoie no gli si commenta sempre la funzione che fa questo scripting e tutto questo è molto facile basta ragionare su quelle cose che vogliamo fare vi faccio vedere una cosa che ho tralasciato all'inizio ed è appunto dvr questo qui la ripetizione del tasto ok vado a togliere il commento questo qui e vabbè questo qui è come gli altri io ho scritto tab non è questo ma è questo qui il video so che è lungo però è interessante e tolgo il commento a questa funzione tra parentesi per fare un capitolo per commentare un capitolo si mettono in parentesi quadre perciò si fa alt chiuso e commento no e apro meno meno e apro le quadre per commentare l'intera riga questo è molto importante senza dover fare riga per riga senza mettere il simbolo meno meno a tutte le righe ok meno faccio vedere così commento poi comunque così commento invece io volevo ricordarmi che questo è un unico codice che appunto è local i uguale 1 will i uguale 5 cosa fa fa preme 5 volte il tasto tab o 5 volte il tasto che volete qui posso mettere 1 2 3 quello che si vuole ripeterà in una frazione di secondo 5 volte il tasto tab ok appunto ripeterà il tasto tab proprio per aggirare questo problema qui del 1 2 3 basta contare i tab no perciò mettiamo che non è selezionato magari si trova qui in una posizione conto 1 2 3 4 5 ok e poi premo invio scrivo chiaramente quello che dovevo scrivere e premo invio e perciò ripeto velocemente apre da vinci resolve perciò basta leggere black magic batte i tasti command 4 per selezionare la timeline shift command a per deselezionare tutte le clip ok qui no altrimenti in da vinci come detto prima non funziona perché bisogna avere sempre per avere una clip selezionata in corrispondenza del playhead bisogna deselezionarle tutte perché il codice funziona infatti è scritto qui il ragionamento è semplice poi c'è di nuovo command up che si può scrivere anche esteso ma cmd è uguale che sarebbe above poi preme il tasto R per richiamare appunto il menu ok e poi se volete ripetere 5 volte tab oppure sbloccate questo commento per un solo tab o ridurre il numero qui di pressioni a 3 2 quella necessità questo non l'ho detto prima ve lo dico adesso e poi aspettare 0,5 secondi e scrive 50 ripetere questo comando qui di aspettare ancora mezza seconda e poi preme invio il video è molto lungo c'è mia figlia che mi parla sotto iscrivetevi al gruppo di Command Post Italia io vi ringrazio e nei commenti per chiarimenti grazie